Il Red Bull Ring, sede del Gran Premio d'Austria, sottopone l'impianto frenante a stress meccanico e termico medio. La frenata più severa precede curva 1. La velocità iniziale è di 312 km orari. Il pilota esercita una pressione sul pedale pari a 143 kg, sviluppando una potenza frenante di 2.518 kW e percorrendo 102 metri in 1,8 secondi. La velocità finale è di 139 km orari. La decelerazione massima di 4,7 G.